La prima esibizione è vera, l'abbiamo fatta proprio qua sotto, in un posto che si chiamava La Vecchia Motola era una specie di posteria dove lì abbiamo fatto la nostra palestra e facevamo serate veramente per pochi spiccioli e tanto vino, il nostro baratto era quello Però il locale si riempiva sempre e lì ci siamo proprio divertiti, abbiamo fatto tante cose, tante cose veramente belle E mi ricordo una sera eravamo sempre lì alla Vecchia Motola, c'erano dei turisti, turisti un po' stranissimi, a Motola i turisti ed erano svedesi Poi misero un video su Youtube, che c'è ancora adesso, ed è stato il primo video su Youtube dei Terra Rossi Noi eravamo stupefatti, c'era una cosa grandiosa per noi all'epoca, pensavamo che cosa fosse, però in realtà andarlo a rivedere adesso ci fa veramente tenerezza, un po' di commozione E ci fa tanto ridere perché io amo proprio stuoli, che faccio, forse si vanno ancora faccio, vabbè, si vanno, siamo qui Poi da là la cosa è cresciuta, dall'Osteria siamo usciti, abbiamo fatto la piccola piazza, poi dalla piccola piazza la piazza un po' più grande, le serenate, le cose, i concerti E tutto quello che è oggi i Terra Rossi, che non ho capito manco io, che cos'è, una cosa grande Grazie